La Procura di Firenze indaga sulla morte di tre persone, tutte decedute per complicanze da Covid-19, nel reparto di ematologia dell'ospedale di Careggi e risultate negative al tampone al momento del ricovero. L'inchiesta è scattata in seguito all'esposto presentato dalla parente di una delle vittime. Nel frattempo anche la direzione aziendale della Nosocomio Fiorentino sta conducendo un'indagine epidemiologica per capire come il virus sia entrato in quel reparto. Il primo decesso, come riportato da Repubblica Firenze, risale al 29 aprile scorso e riguarda una donna di 45 anni. La sua cartella clinica è già stata prelevata dagli inquirenti insieme agli altri documenti che tracciano il suo percorso di ricovero. Dopo la sua morte tutti i pazienti e operatori della struttura sono stati sottoposti nuovamente a tampone ma nessuno di loro ha risultato positivo. I controlli con tampone diagnostico all'interno dell'ematologia, come sottolineato dalla direzione dell'azienda ospedaliere universitaria Fiorentina, vengono effettuati con cadenza settimanale dall'inizio dell'epidemia proprio per scongiurare infezioni nel reparto. Successivamente però, a poco più di due settimane dal primo decesso, si sono ammalate di coronavirus altre due persone, entrambe compagni di stanza della vittima, un 43enne e un 65enne. I due pazienti sono stati trasferiti nel reparto di terapia intensiva ma purtroppo non sono riusciti a superare le complicanze dell'infezione. Infine, l'ultima data al vaglio dell'inchiesta della procura è quella del 29 maggio, quando un operatore del reparto si è positivizzato al virus, anche se è sintomatico, però dal controllo successivo su tutti i pazienti e i sanitari non sono stati rilevati ulteriori contagi. Una vicenda sulla quale la Giunta Toscana riferirà in Consiglio regionale, informando anche sugli sviluppi dell'indagine interna all'azienda ospedaliera universitaria di Careggi.